Allora eccoci qua, stavamo chiacchierando con Maurizio che aveva fatto un po' di questa sorte di questa nave che è affondata con tutto il suo contenuto, non di persone che si sono salvate, sono rimaste nei campi di prigionieri inglesi. Praticamente quando è stato fatto l'affondamento era già anche predisposta tutte le scialuppe per poter sia gli inglesi che erano a bordo, sia il medico che in quel caso era un medico inglese ma era neutro per fare le visite mediche a bordo che la nave fosse in regola, sono tutti montati nel scialuppe di salvataggio e quindi sono scese e andati a terra. Il relitto della nave, la prima volta che sono andata aveva ancora le torrette con cui hanno fatto scendere a mare le scialuppe di salvataggio, era ancora fuori dall'acqua, adesso oramai è sempre più degradato, consumata dalla salcedine, tutto questo era un carico di bombe, mi pare che sia sì, che però sono completamente inermi, queste qua oramai parliamo che è fondata nel 40, quindi sono 80 anni che si è sott'acqua. Questa è la parte più bella da vedere, qui sono le Fiat 1500 lunghe e erano tre macchine e sono state praticamente nella stiva che dovevano arrivare nel porto di destinazione e nel momento che la nave è affondata, si è piegata leggermente sul fianco, le tre macchine sono andate una addosso all'altra e si sono lì e qui le vediamo, praticamente non c'è assolutamente più nulla di recuperabile, purtroppo sono state depredate in una maniera incredibile perché all'inizio avere un cimelio di quello che poteva essere l'Umbria, di quello che poteva essere queste macchine qui, sì è una tentazione che poi soprattutto è da molti, se guardiamo bene è da vent'anni che ci raccomandano di non toccare, prima in viaggi subacquei ne ho viste di tutti i colori, a prescindere anche la popolazione che pescava con le bombe, bisogna dire cioè ci sono tante cose che sono cambiate, adesso siamo molto per la tutela, qui ad esempio era tutto un carico di vino, bottiglie di vino che chiaramente i tappi di sughero sono andati, sono rimaste le bottiglie, questa è una maschera antigas che sta facendo, sta vedendo come era attaccata e tutto, ma però ripeto il carico è ancora tutto giù, completamente oramai cementato, questa è la radio che facilmente poteva essere la radio con cui il comandante ha sentito che l'Italia entrava in guerra, questo lo raggiungo io, ma poteva essere un cimeno che quello, qui è l'esterno della nave, quasi irriconoscibile sostanzialmente esattamente, qui ci sono i vari camminamenti corridoi esterni a quanto dalla costa era stata? 2 miglia dalla costa, proprio sotto costa esattamente, doveva entrare in porto per fare i rifornimenti di carbone, in questo caso qua, perché era una nave che andava a carbone questa qua, siamo ancora in epoca, piuttosto non eravamo, era ben lungi dagli propulsori più moderni. Tanti pesci hanno trovato rifugio? Sì, sì, però l'Umbria è molto visitata dai subacquei, veramente, per cui diciamo che ha perso un po' quella genuinità. Ha perso, sì, per cui i pesci oramai che sono rimasti lì sono pochissimi, questa è la parte più profonda, che vediamo le eliche, sono due, questa è una delle due eliche e qui siamo a 35-36 metri di profondità, ecco non è quello. E qui adesso abbiamo la solita tappa di decompressione, che siamo lì, che stiamo aspettando che passi il tempo. Il tempo di decompressione avete fatto? I tre minuti di sicurezza si fanno, perché anche quando abbiamo fatto i 55 metri, risalendo lentamente nella parete, arriviamo al punto di fine immersione che il computer ti direbbe che puoi uscire, per tranquillità si fanno ulteriori tre minuti. Quindi in tutto quanto fate? Ripeto, ho avuto decompressioni anche molto più lunghe, ma in questo caso qui direi cinque minuti, si arriva a sei minuti, ma proprio per stare tranquilli. E poi avevate subito il gommone esterno e qui siamo al tramonto. Avete, siete rimasti in barca? Una settimana. Una settimana imbarcati. Sì, una settimana imbarcati, esattamente. E poi quello che è bello praticamente perché si ha, quando si trova il mare calmo, è bellissimo. In Sudan sarebbe da andare a chi vuole andare, io do un consiglio, a gennaio. Marzo è indubbiamente una temperatura più tiepida, migliore, più caldo e tutto. Però gli squali martello, se volete andare a vedere gli squali martello dovete andare con l'acqua fredda. Non ci dobbiamo fare. Ah, non c'è speranza. Avevamo la muta da 5 mm comunque qui. Questa che stagione era? È marzo, in marzo siamo andati. Muta da 5 mm è indispensabile, quello sì. Però, ripeto, poi ci sono anche i calorosi che vanno con quello da 3 mm, io non appartengo a quella categoria. Preferisco avere il 5 mm e avere un po' di caldino tranquillo. Ma sotto la muta, c'è la muta, poi c'è uno che mette il pile? No, basta. No, no, no. Solo la muta hai praticamente, sono una muta chiamata umide in cui entra l'acqua e c'è il tessuto interno, è una specie di lana che ti tiene, si riscalda, ma però è sempre, è lo spessore della gomma che ti tiene, che ti isola dalla parte esterna. Il problema sono le mani. Ma no, no, mani e viso. Cioè, le mani sono, bisogna stare attenti, non si va mai giù con i guanti, per cui bisogna stare attenti a non appoggiarci con le mani perché ci si può far male. Quanto meno, voglio dire, pesci pietra ce ne sono, quelli sono in fase di decompressione, ma non la facciamo più la decompressione oramai in parete, si è visto che è pericolosa, la si fa o in acqua libera o addirittura sulla catena del gommone o sul segnalino praticamente che si butta fuori a fine immersione, ci si attacca e si sta fermi lì. Ma toccare la parte rocciosa sott'acqua ci si può tagliare molto facilmente, anche perché le immersioni vanno da 40 ai 50 minuti, per cui i polpastrelli delle dita sono abbastanza fragili, ci vuole molto poco per tagliarle perché si sono inflecciditi dall'acqua, quindi proprio, ma no il freddo è anche in viso, c'è la maschera, abbiamo il cappuccio, quindi è una minima parte, le guance sono esposte, ma non è una temperatura polare assolutamente, cioè non si sente il freddo, il freddo lo si sente quando è freddo, è la parte toracica che soffre di più. Però le muta quelle che sotto uno si mette a compai, le muta stagna? Ah, sulla muta stagna, su muta stagna non entra acqua, sì 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 ce l'ho, diciamo che non è una muta comodissima dal mio punto di vista, è una muta però che uno va in acqua e può andare in acqua, abbiamo visto il film di James Bond che veniva fuori, si toglieva la muta e aveva il vestito sotto, ma quello era un film, però realmente non passa una goccia d'acqua, non passa una goccia d'acqua assolutamente, il pile che ci si mette su, praticamente serve a isolare ancora di più e come c'è un attimo di freddo, basta l'introduzione dell'aria, perché la muta stagna si mette dentro l'aria e l'aria fa da coibente anche lei e per cui proprio si sta benissimo, bisogna imparare due cose semplicissime che praticamente il GAV, lo abbiamo tutti, il GAV è il giubbetto idrostatico, ma lo si usa solo e esclusivamente superficie, una volta sotto si manovra solo aggiungendo l'aria alla muta stagna, proprio, e sotto il GAV ce lo si dimentica completamente. Hai capito, quindi comunque quelle sono isolanti completamente? Isolanti, sì, quello lì proprio si fa l'immersione, si torna fuori, non c'è assolutamente freddo, difatti nei periodi anche invernali l'ideale è fare l'aria con la muta stagna. Con che temperatura dell'acqua si usa? Ah beh, vanno tranquillamente sotto i ghiacci del polo e con la muta stagna, chiaramente sono muta stagna, ma quello che è più importante è il pile che c'è sotto praticamente, che è dei pile molto grossi, praticamente isolano molto di più, ecco, ma proprio la muta, se guardiamo bene, sembra, le prime che erano state fatte sembravano in tessuto dei gommoni, adesso c'è un neoprene precompresso che contiene meno aria, quindi è più facile, la si gestisce più facilmente e isola benissimo lo stesso. Quindi quando è che l'hai usata, a che temperatura tu? Io la uso in maggio praticamente qua in acqua da noi, sì, perché è abbastanza freddina l'acqua qui, quando arrivi a 16 gradi tranquillamente sotto, perché abbiamo un mare che è freschetto il nostro, sì, direi questo, mi trovo meglio con la semestagna, che è una muta più grossa, c'è la cernilla nella schiena, ti entra pochissima acqua e ti protegge abbastanza, però ti protegge abbastanza, la muta stagna ti protegge completamente, proprio tu fai tutta l'immersione e non hai un brivido. E poi ti muovi abbastanza in acqua, ti muovi. Si è più impacciati, perché le mute sono aderenti, per cui quando uno pinneggia fa meno attrito con l'acqua e si muove piacevolmente. Con le mute stagne, avendo l'aria, sono più praticamente, non sono anatomiche, si allargano un po' di più, per cui uno fa più fatica a nuotare. E fra parentesi, adoperi molti più pesi che con le mute aderenti, con le mute sia semestagna che con la muta umida. Per cui c'è più peso da portare in giro e quando si pinneggia si fa più fatica. E questo ti comporta, la fatica comporta anche un maggior consumo d'aria. Ecco l'altro aspetto, quindi questo non è poco di... Come invece, come service, come organizzazione lì in Sudan, come vi siete trovati? Benissimo, benissimo, perché l'accompagnatore lo conoscevamo già, è bravissimo, il cuoco a bordo. Poi è molto importante anche l'ospitalità in barca, per carità avevamo l'handicap delle cabine scomodissime, però mangiato benissimo, il cuoco era bravissimo a cucinare proprio. E a quel punto lì, quando uno si alza la tavola soddisfatto, è già a posto quello proprio veramente. Allora Maurizio, intanto grazie mille, naturalmente. Adesso dobbiamo invece allontanarci dal Sudan, da questi viaggi, ritornare alla nostra vita quotidiana, però il viaggio è già programmato, non appena si potrà, no? Esatto, speriamo proprio. Intanto chissà che non ci porti qualche immagine anche di repertorio, per farci emergere qualche realtà, visto che approfittiamo della tua presenza costantemente tenuta qui sul territorio. Grazie ancora a voi cari telespettatori, naturalmente. Buon proseguimento e buona serata. Grazie a tutti.